Ma è bellissima, posto da dove entra Erion Queste sono le fazioni quelle da griffare Qualcuno, qua c'è anche un minecart, cos'è un percorso minecart? No, c'è, guarda c'è un percorso di qua, c'è un percorso qua giù Che finisce nel nulla più totale con una torcia E bella ragazzi, benvenuti in un altro episodio di Factions Factions, oggi vi porto il video più strano che io abbia mai registrato È stato uno dei raid più strani che io abbia mai fatto E con un po' di iscritti, un po' di alli Ho cercato di coinvolgere tutti il maggiormente possibile Diciamo, in maniera più grande possibile E niente, guardate il video di oggi, raidiamo una base strana Da un iscritto che non si capisce se è un iscritto E niente, buona visione Aspetta, Blu, voi siete lì? Ok Sto andando a vedere un'altra fazione TPA, Ard Siamo quasi arrivati penso Blu, la senti? Sì Ard, accettami il cosa? Eh sì, Blu rimanda Sì Questo è stato, l'hanno claimato loro L'hanno claimato loro, solo che sarebbe anche animato Ah, l'hanno overclamato Sì, un claim Ce lo dà super sky Li dico, gli ho detto di un claimare Eh, paghiamolo un po' va Pay super sky, gli diamo un 10.000 Ah, l'ho accettato Io ho accettato Quanti soldi hai, Blu Fire? 130.000 al momento Raga, non c'è un... Prego, pagamene un po' Ma non c'è che paghiamo No, però No, fidati che li uso tutti, se no ti pagherei anche No, perché c'ho poco Un po', ho usato... No, no, Red, Red, non si fa così Non si fa così, Red Si fa così Ok Adottiamo la tua tattica, è sempre la migliore Ci stavi entrando nel modo sbagliato, questo è il punto Sbagliatissimo, un bel tp Ho lasciato il tp Vediamo se c'è qualcosa C'è una stack di ossidiana No, no Eh, aspetta, ti slash ti piace Ok Tu è blu, è vero Tenei Red, spachi le ceste e non prendi mai niente Non è vero Non è vero Chi è che mette in giro queste voce Tra gli ultimi bisogni di Red, dove te non hai preso niente Ma anche quello dei... dei... del Red, dei portali Ma poi si spartiscono alla fine Praticamente è l'ultimo Ho preso tutto, tutto il possibile Almeno quant'altro E' appunto la differenza tra Red, dare e griffare Sì Dimmi Basta, io bisogna che cambio la lettera del coso 120.000 ora Ok Avete preso tutto? Perché, ecco Ecco, cose che non si fanno Scappa 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 Non si rompe le cose con l'ascia Ma perché c'era tutta distrutta? Bellissimo Ragazzi, qualcuno mi paga un po' C'è pochissimi soldi Aspetta, ti do 5.000 Super, super sky E' quello che c'è, ti parta Salve Aspetta, aiuto Sta con noi, sta con noi Tipo troppi Chezza, ti ho mutato Ok Capo, ti ho mutato Flash, F, Ali Reddark, vuoi fare il controllo Link, io, Nelpert ha detto di dare Di far Chi? Z che me Mi sentite? Reddark, dammi Skype 60 secondi Non sloco ban Infatti Reddark, dagli Skype Allora E' lì che ti chiami Ricontinuo io la strada di là, ragazzi Sì Tipo ti da Redd Io mando a fuoco qua la fazione Qua sotto me hai claimato No, non c'è niente No, vieni Ora ti cerco Reddark Ora come ti è? Ma come si fa non claimare una base? Come scendere in maniera figa? Sceglie 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 No, è magico Guarda Blu, blu, blu Vieni qua Vieni qua Aspetta Da qua si scende Ah Ma sarà della stessa fazione secondo me Cioè La puni Cioè La unisco le due clip Qui Metti l'acqua Wow Non c'è un cazzo Metti l'acqua Non c'è un cazzo Va bene Ma cos'è questo? Beh Prot 3 Prot 3 Ho accettato Vecchio Ah ma è una mob spawner room Ho capito adesso Metti l'acqua Sotto qua Guarda Metti l'acqua Wow Non è manco climato E ha tre piani Hanno anche detto qui per il terzo Oh qua c'è un po' di roba Blu, blu Ma questi che 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 mentalità hanno? Ci hanno trovato Nessuno No Ci hanno trovato Nessuno Blu Ho preso della roba velocissimo Scusa Scusa Hard I cartelli sono più belli Per questa base Delle cazze Ah la 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 cazze Metto questo piccone Ma il bello cazze Sono fatto un po' Ganno la cazze E dietro una cazze Non c'era niente Ah la cazze Andate al warp deserto Vai Saronno Cos'è il liquore Ok E un altro cartello Posto Wow L'ho aperta Ma è bellissima Posto da dove entra Aeryon Queste sono le fazioni Quelle da griffare Ma chi se ne frega Se sono già griffate Non sono manco Climate Il bello Il bello è quello Ti slash kit TNT Io posso? TNT anche io ragazzi No 16 minuti Non ci credo Io posso Cosa diceva dietro Quel coso rosso No ragazzi No 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 ancora non posso Cosa c'è un'altra stanza ragazzi Arlight si stava per morire male Non è vero L'ho vista prima C'è qualcosa E la stanza da dove è entrato Aeryon Per favore non entrare Stanza di Aeryon 46 Per aprire La stanza O io la leva O io senza la O Porca miseria Questi l'italiano Dove lo lasciano Nella penna Questa fazione Non aveva senso alcuno Qua c'è anche una Un minecart Cos'è un percorso minecart No c'è Guarda c'è un percorso di qua C'è un percorso qua giù Che finisce nel nulla Più totale Con una torcia Non devo vedere De grado mentale ragazzi Così Finisce così Non c'è niente qua Sì Zane con blu Non ha senso Cosa c'è qua C'è qualcos'altro Eh vai Queste sono le fazioni Quelle forti Cioè Perché è Gli absolute team Ragazzi Poi guarda come hanno scavato Cioè Cosa cercavano Come era coprite Vino Cidiana No ma una scavata del genere È la cosa più insensata Che possedissima No davvero No vicino a un canyon Io non ci credo In diagonale Venite di qua C'è un canyon ragazzi Boh Direi che abbiamo preso Tutto l'essenziale No All'inizio ti guardano la versione Ti fanno premere F3 Guardano la versione E poi vedono Cioè Ok Home Non aprire Per dietro non c'è un cazzo Non aprire E dentro c'è I semi Ragazzi era bellissima Era bellissima Devo ritornare di là Sì torna di là Adesso ci tippiamo Tippatevi da me ragazzi Che vi tippo Sto solo posando un po' di rava Accetta red No aspetta qui Ho tippato Red wizard Eh c'è cosa Supersky Che ha fatto Lo schifo Si è tippato da me E mi vuole killare Ok l'ho killato Supersky Quello la Che ci ha dato un raid Si è tippato Perché mi voleva killare Ma era tu Allie era Adesso lo metto enemy No aspetta Mi c'è enemy Cazzo Aspetta c'è qualcuno Che scrive su TS Mi voleva killare Ma nessuno mi batte Non so Ma si faceva killarti Se non è riene No Che ha cambiato fazione Aveva Infatti L'ho anche invitato In fazione Perché credevo Che era uno degli iscritti Ma poi ti uccide Perché Come hai fatto Non ho capito Non so Faccio Tu vai avanti E devo dare uno spawn È stato uno dei raid Più strani Che io abbia mai fatto Sinceramente Ma non più strani No l'iscritto ci tippa C'è un box Lo anclaiba E poi Tipo c'è una base lì a fianco Raidiamo tutti E poi il tipo vuole ucciderci Non ho capito Questo è coraggio di chiamarlo raid Ma certo Perché ovviamente Ho preso due inventari di roba Ho preso due inventari di roba Lo chiamo raid Sì Ed è anche Ed sono esplose due basi Tra l'altro Ho il coraggio di chiamarlo raid No cos'è Senti Ti ha dato Ti ha dato Vabbè Torniamo all'altro Torniamo all'altro Torniamo all'altro Torniamo all'altro